Antares, Parma, Mercedes, Smart e occasioni imperdibili in compagnia naturalmente di Antares come avrete capito ma anche di Daniele Lurgia. Ciao Rosi, mi ha chiamato anche il nome e il cognome, è una cosa gravissima questa. Ci troviamo a Parma, ci troviamo ad Antares, siamo in Via Lavagna al numero 1, sede storica, pensa Rosi, dal 1972 che in questa sede si Mastica Mercedes. È un centro incredibile perché potete trovare tutto quello che ruota intorno alla stella per cui dall'assistenza specializzata a un magazzino ricambi immenso, a gommista, carrozzeria ma soprattutto, il motivo per cui noi siamo qua oggi, una scelta interminabile di autovetture chilometro zero usate di provenienza ufficiale Mercedes a vostra disposizione. Oggi faremo una rapida carrellata parlando anche con Stefano, il responsabile vendite, che ci darà delle novità di prodotto, ci vedete di fianco a una novità eclatante del prodotto di casa Mercedes, ma lui sarà più bravo di noi ad entrare nello specifico di tutte le offerte disponibili per voi. Se ci seguite andiamo subito dentro che fa un pochino di caldo. Direi, andiamo. Eccoci qua, siamo entrati dentro, io ho sempre in mano questo iPad, voi vi chiederete come mai è diventata una sua produberanza. In realtà è perché qui c'è il sito antaresparma.it dove voi potete andare a vedere tutte le autovetture che adesso vedremo in questa trasmissione e vado incontro al personaggio di oggi, cioè alla persona che ci porterà e ci guiderà per mano attraverso tutte queste bellezze di Mercedes. Stefano, se vuoi raggiungerci, ecco qua. Stefano è responsabile vendite di Antares. Prima di iniziare a parlare di autovetture, vorrei che spiegassi velocemente ai nostri clienti, ai vostri futuri clienti, da dove arrivano queste autovetture. Bravissimo Daniele. Questo qui è tutto prodotto aziendale, quindi prodotto di Mercedes Benzitalia, autovetture che hanno circa un anno di vita, a massimo due anni di vita, prodotto sia Mercedes che prodotto Smart. Effettivamente qua possiamo vedere un prodotto di Mercedes che ha un anno di vita, un acicabro, quindi ci possiamo fare un bellissimo regalo nel periodo estivo. Autovettura che costa circa 65.000 euro di listino, la proponiamo a 39.900 Come dicevo Stefano, gli accessori, poi chiediamo ai vostri clienti di andare a vedere sul sito www.antaresparma.it dove possono andare a vedere tutte le caratteristiche e scegliere anche la sede, perché voi avete anche un'altra sede, giusto? Una sede che ce l'abbiamo qua, la sede di Parma, storica, qua a Parma e una filiale a Fidenza. Per cui la possibilità, tenete conto Stefano, di avere autovetture che arrivano direttamente dalla casa, ma anche una struttura di post vendita, per cui assistenza, magazzino ricambi, gomme, eccetera, eccetera, proprio dedicato alle vostre autovetture. Andiamo velocemente presentando tutta questa fila, partendo da questa splendida familiare bianca. Lascio a te il campo. Questa qui è una bellissima classe E, 350, Amge Line, quindi un'autovettura full optional, cerchi da 19, veramente allestita, c'ha di tutto, un'autovettura che parte da un listino di circa 75.000 euro, noi l'andiamo a proporre a 49.900 euro. Quindi un'autovettura che ha la garanzia della casa Mercedes, con la possibilità di estenderla per un altro anno, altri due anni, con un climataggio o illimitato o 200.000 chilometri. Per cui veramente dormire fra otto guanciali, neanche? Direi proprio di sì. Adesso ci spostiamo su questa C220, automatica Sport. Questo è un bellissimo prodotto, è una classe C berlina, un'autovettura che anche questa, come vi dicevo, ha un anno di vita, pochissima strada, la proponiamo intorno ai 29.900 euro. Autovettura con gli interni Avanga, quindi pelle e tessuto, cerchi da 17, fanali full LED, sensori di parcheggio e navigatore, che non guasta mai. Questa grigia media, invece? Questa qui è una classe A, modello precedente, quindi un'autovettura che è un prezzo veramente, diciamo, tirato, nel senso che è un prodotto Sport, cerchi da 17, fanali a LED, la proponiamo a 24.400 euro. Anche questa è circa un anno di vita. Se il cliente ha bisogno di fare un finanziamento? Qui facciamo il finanziamento, lo studiamo come vuole il cliente. Anticipo, senza anticipo, maxirata finale. Lui mi dice la rata che vuole, io gliela tiro fuori. E se il cliente ha un'usata da rimperuta? Non c'è problema. Non c'è problema, assolutamente. Diciamo che se poi vede la nostra trasmissione, sicuramente lo riusciamo a trattare anche meglio. Vediamo questa invece, una C180, Station Wagon, Diesel Automatica Business. Questa è una versione che ha già di serie circa 17 il navigatore, è un motore 1.6 diesel con 116 cavalli. L'autovettura che fa circa 23 chilometri con un litro, noi lo proponiamo a un prezzo di 22.900 euro. Veramente un prezzaccio. Ecco Stefano, qua vedo, ed è importante sottolinearlo per i nostri clienti, per i vostri futuri clienti, chilometraggio 28.533. Qua parliamo di chilometraggio vero, certificato, ufficiale, arrivano dalla casa, con questi chilometri vi vengono riproposti dopo una messa in strada, una pre-consegna in maniera assolutamente trasparente. Non c'è la possibilità che i chilometri non siano questi. Per cui venite assolutamente con fiducia, con il vostro usato, a parlare con Stefano e i collaboratori perché trovate vetture assolutamente di qualità. Andiamo su questa qua nera. Questa qua nera è un'autovettura 180 diesel, è una versione col pacchetto NEXT, quindi una versione che ha già i fanelli LED, cerchi dei 17 e navigatore. La proponiamo a 20.900 euro, quindi veramente un prezzaccio. Volevo ricordare, scusami Daniele, che nel momento della consegna le macchine vengono tutte tagliandate, quindi che abbiano 10.000, 20.000 o 30.000 chilometri, noi le consegniamo col tagliando già fatto, quindi per un anno non ci vediamo più. Questa Total Black andrebbe bene per Giorgio Armani. Andiamo a vedere questa, che quando sono entrato prima sono rimasto colpito da questa autovettura perché è particolarmente aggressiva, ed è una E220 AMG Line Coupé. È un E-Coupé, quindi questo qui è il prodotto nuovo della classe E-Coupé, quindi motori nuovi, motori 2000, 194 cavalli, versione full optional, per la Cantara, cerchi da 18, veramente un bellissimo prodotto. Ecco Stefano, i nostri telespettatori da casa non riescono a vedere il dettaglio di quello che c'è scritto qua dentro, però vedono che su tutte le autovetture c'è questo foglietto. Mi spieghi un po' che cos'è, anzi spieghi ai nostri telespettatori che cos'è. Certo, certo. Oltre alla vendita dell'autovettura possiamo proteggere la macchina, possiamo proteggere il regalo che si fa al cliente, mantenendo un valore nuovo massimo 4 anni di vita, possiamo mettere la protezione dell'autovettura direttamente anche nel finanziamento, quindi fare un pacchetto completo al cliente. Questo vuol dire, vediamo se ho capito, se io compro questa macchina da 49.900 euro per i prossimi 4 anni, nella malagurata ipotesi che me la rubassero, tocchiamo ferro, io torno qui da voi e ho ancora i miei 49.900 euro da poter spendere qui. Qui non subisco il depreciamento dell'autovettura. Chiaramente immagino che abbia una protezione anche per quello che riguarda gli attivandalici piuttosto che i cristalli. Incendio, furto, attivandalici. È una grande coperta che si dà al cliente globale per assicurare il valore dei soldi che avete speso qui da Antares. Andiamo avanti, abbiamo un'altra, oggi molto nero, la prossima volta che veniamo però me ne metti una gialla, qua abbiamo una CLA, giusto? È una bellissima CLA, è un prodotto, è una CLA 200, quindi un motore 2002, 136 cavalli, col pacchetto night, quindi un'autovettura dove l'autovettura dovrebbe avere tutte le cromature, vengono tolte e viene messo il nero, quindi mancorrenti neri, vaschi e vetri neri, vetri oscurati, cerchi diamantati neri, autovettura con sensore di parcheggio e navigatore. 10.156 chilometri? Eh sì, questa è nuova, qua bisogna alzarsi dal divano, correre subito al telefono, chiamare immediatamente e chiedere di Stefano e di suo collaboratorio perché questa sono convinto che vada via in un nanosecondo. 10.156 chilometri veri, certificati e tagliandati. Poi tutto il nostro prodotto che andiamo a mettere su internet è sempre il primo, quindi i prezzi sono 20 prezzi migliori di Autoscout. Il primo, avete capito, il primo di Autoscout e questo non è dovuto alla volontà di essere assolutamente i primi per fare i belli di fronte a tutti, no, è veramente la politica aziendale di Antares, cioè quella di trovare la possibilità di comprare per voi a dei prezzi veramente unici per darvi la possibilità di salire su queste splendide macchine ad un prezzo ancora ragionevole. Certo. Qua abbiamo? Qua abbiamo una sorella gemella di questa classe A in versione Total Black, sostanzialmente sono uguali, sempre macchine di un anno, versione business, quindi una versione con le navigature. Allora passiamo con la berlina, dai, questa l'abbiamo già presentata, C180 Diesel. C180, questo è un bellissimo prodotto, è un motore 1.6, 116 cavalli, berlina, una versione molto classica, in tessuto, autovettura che avrà, scusate, passo, sì, vengo io qua, 12.012, 12.012, sono prodotti proprio nuovi. Cioè io li faccio in due mesi, 12.012, noi li vendiamo questi prodotti qua, quindi prodotti veramente appetibili. Cioè una che fa tanta strada come me dovrebbe venire qua e cambiarne una all'anno di vetture. Ah sì, ah sì, ah sì. Ok, andiamo avanti con questa CLA 200 Diesel Station Vengono Automatica. Sempre in Total Black, è un'autovettura business, quindi è una vettura 1.212, 136 cavalli, col pacchetto business, circa 17, navigatore, sensore del pacchetto. Ecco Stefano, diciamo una cosa per i nostri telespettatori che magari si sono collegati solo in questo momento. Questa è una disponibilità di prodotto che è stato già preparato per il salone, però chiaramente se voi avete in mente un'autovettura del marchio Mercedes che non è in questo momento presente, voi avete la possibilità tramite il vostro sito di andare a prelevare proprio la vettura. Noi andiamo a prendere il prodotto a cui è interessato il cliente, quindi il cliente mi dice il prodotto che vuole e io lo vado a terra. Anche se non c'è qui in questo momento quella che vi piace, perché magari volete questa, però la volete nera, parlate con Stefano e sicuramente la possibilità di trovarla c'è senza grossi problemi. Andiamo avanti, qui abbiamo una C200 diesel automatica sport. Questa qui è una bellissima C200 sport automatica, quindi un'autovettura con circa 17, fa nelle led, interni avant-garde, quindi interni pelle e tessuto con il navegatore automatica. Autovettura di un anno di vita che proponiamo a 27.900. Se vi dovesse configurare la macchina nuova, è un'autovettura che gira intorno ai 50.000 euro. Qualche cosa di bianco, lo presentiamo, dai. Sì, questa qui è la sorella Station Wagon in versione bianca, anche questa autovettura sport con i cerchi di 17 diamantati, interni avant-garde e che la proponiamo a 29.900 euro. Stefano, chiaramente qua stiamo parlando, ci siamo focalizzati sul prodotto, chiaramente Mercedes Smart, che è il prodotto di rappresentanza, però chiaramente ritirano l'usato, per cui c'è anche una disponibilità di usato di altre marche dove potete andare a pescare magari un'autovettura non necessariamente Mercedes che potete trovare chiaramente sul nostro sito. Sul nostro sito, www.tantarespama.it, trovate tutto il nostro prodotto. E non è che le altre hanno un trattamento diverso, anche le altre vengono garantite, vengono tagliandate, vengono ricondizionate, per cui esattamente come questa bellissima Mercedes. Qui chiudiamo con questa, scusate alle spalle, GLA 180 Diesel Automatica Business con tanto di... Di Siluro? Siluro si chiama. Perché comunque noi vendiamo anche accessori posto vendita Mercedes, quindi dalle gomme, o comunque tutto quello che può riguardare la macchina anche negli interni. Questa è una GLA 180, motore 1.5, 116 cavalli, versione Business, quindi una versione che ha telecamera, navigatore, automatica. Ok, ci rimangono solo 40 secondi per ricordare che Antares si trova a Parma, in via Lavagna numero 1, oppure a Fidenza via... Fidenza via Coduro 1 barra C. Qua potete trovare una grandissima disponibilità di autovetture chilometro zero usate del marchio Mercedes e Smart, una officina unica, dal 1972 che fanno la storia del Mercedes a Parma. Potete trovare il simpaticissimo Stefano, tutti i suoi collaboratori a vostra disposizione per trovare l'auto dei vostri sogni. Stefano, grazie per la collaborazione. Grazie a voi. Splendido, grazie a voi per essere con noi, ci vediamo alla prossima trasmissione. Ciao. Ciao.